Amici di Medi in Vino, ciao! Siamo qui con l'amico Filippo Burioli e presentiamo un meraviglioso Franciacorta Brut, il Mosnel, cantina Mosnel, un 13 gradi ovviamente che arriva dalla Lombardia D.O.C.G. Passiamo alle testazioni, Filippo, cosa dici? Perfetto, perfetto, fantastico. Alla vista è un bel giallo dorato e questa parte di Cerdonella si vede tantissimo, brillante, c'è una bolla fine, molto numerosa, anche dei riflessi del Donnelly perché comunque i Franciacorta sono soliti raccoglierlo abbastanza presto. Sì, raccogliono? Ma i primi di agosto, quindi è un vino abbastanza acido, sentiamolo, è abbastanza intenso, è abbastanza persistente. Promette bene al naso? Sì, assolutamente sì, ha questo floreale che è tipico della Franciacorta, questa caccia e quella leggera tostatura tipica dei lieviti, bene, molto bene. Degustiamolo? Sì. Cosa ne pensi? Molto secco? Sì, secco. Beh, la prima cosa che mi vorrebbe da dire è equilibrato. Sì, esatto. Bocca e naso, meraviglioso. Poi è il classico Franciacorta, insomma, il Franciacorta che consiglierei a chi vuole iniziare a bere un buon Franciacorta. Sì. E poi, che dire, è fresco, è morbido, è a temperatura di servizio e siamo sempre sui molto freddi, dai, le bollicine. Certamente. Più fredde sono, meglio è. Quindi proprio dieci secondi dopo averle messe, tolte dal frigo, scusate, lo beviamo. Assolutamente. È il top. 6-8 gradi, direi che, per Natale, meglio 6. Per Natale ce lo gogliamo tanto, nel senso, aperitivo, un primo di pesce, oppure anche per festeggiare tra la vigilia e Natale, per festeggiare il Natale. Beh, sarebbe un miraviglioso brindisi. Se un primo di pesce potrebbe essere, potrebbe essere un bellissimo risotto in... bianco. In bianco. Per chi ama il pesce un bellissimo risotto in bianco. Che meraviglioso. Buon Natale a tutti. Buon Natale cin. Cin. Ciao. 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 Ciao.